Sarà riaperta una delle quattro cappelle della chiesa di San Francesco di Paola, al cui interno compare un antico affresco, una deposizione risalente a 700. L'opera, oggi visibilmente consumata dal tempo, sarà riportata alla luce del lavoro del Consorzio Artigiano Arcovaleno. I lavori che verranno avviati in tempi rapidi avranno una durata all'incirca di due mesi. Per Pasqua il lavoro di restauro, con tutta probabilità, sarà ufficialmente inaugurato. A sostenere lo sforzo economico del restauro, che costa 22.000 euro, sarà la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, guidata dal presidente Mimmo Taglieri, che ha colto con sollecitudine il desiderio della comunità francescana e dell'architetto Chetano Pagone, che fin da ragazzo ha frequentato la parrocchia di San Francesco di Paola, restandovi sempre effettivamente legato. È un primo intervento che si fa dopo questa pandemia e quindi può essere preso anche come riprendere un cammino che è stato interrotto. Il lavoro è importante ed è propedeutico anche ad un secondo obiettivo che noi abbiamo. Qua ci viene detto che sotto le mura della chiesa di San Francesco c'è un'altra chiesa. Penso che l'obiettivo, padre Nego, deve essere questo. Frannello ce l'ha detto più di una volta e quindi è riuscito a penetrare nelle possibilità di poter avere dei finanziamenti. Noi ci siamo, ci saremo. Da parte nostra, di noi frati, c'è un'ampissima apertura. Tutto quello che possiamo fare di bello e di buono per l'arte e per la città, per noi è importantissimo. Per cui auspichiamo veramente di poter presto anche inaugurare, ecco la presenza anche di tutti quelli che oggi siamo qui, questa nuova opera che come premetteva il dottor Taglieri è la prima di questa serie di nuove opere dopo purtroppo quest'anno di blocco, di pandemia che abbiamo vissuto tutti quanti.